Ciao ragazzi, ciao, 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 eccoci qui con il video su cui vi ho tormentato nelle storie di Instagram, il video delle domande, parlerò in soft spoken in questo video per la prima volta perché me l'avete chiesto e perché poi non ho mai fatto forse un video in soft spoken con questo microfono che ormai non è neanche più nuovo ma voglio provare a fare anche il soft spoken solo che devo parlare molto piano perché il confine tra soft spoken e voce da gallina è sottile. Allora, è nata in me l'esigenza, in realtà io ho spesso questa esigenza di parlare così un po' con voi perché ho la sensazione che spesso voi o comunque le persone generali sui social eccetera vogliono chiedere delle cose ma non lo fanno. Siccome io non sono il tipo di persona che si nasconde, cioè nel senso se voi mi chiedete una cosa io vi rispondo. Non ho nessun problema nel farlo, ognuno è libero e dovrebbe avere insomma la consapevolezza di sapere come gestire le proprie informazioni, quello che vuole dire è quello che non vuole dire, quindi non ho nessun problema nel parlare con voi. E forse qui poi non l'ho neanche mai fatto, cioè nel senso nelle storie di Instagram metto un sacco di stronzate si può dire, però poi alla fine fondamentalmente qualcosa di serio non c'è quasi mai. E quindi ho detto se mi fate delle domande faccio un video appunto dove raccolgo magari delle curiosità che ci possono essere, non che chissà che curiosità ci possono essere sulla mia vita perché vabbè non sono mica Valeria Marini, però... Valeria Marini... però ho detto chiacchieriamo un po' e facciamo questo video. Allora la prima domanda che mi è arrivata è così sulla noce del collo ed è una domanda che mi stupisco anche che non mi sia stata fatta prima perché me l'aspettavo, sinceramente. Ora metterò un titolo a chiappa visualizzazione, a chiappa lo scoop. La prima domanda che mi è arrivata è... ti sei lasciata? Ma sei ancora fidanzata? Ma secondo voi? Allora io so che molte cose non si capiscono e non si devono capire. Nel senso, siccome sempre appunto baso sul 90%, se non il 100% della mia vita sull'ironia, vi capisco e so che molte cose non si capisce appunto se siano serie o meno. Quindi magari io metto un video e voi vi chiedete ma ti sei lasciata? Allora io non pensavo di dover mettere l'annuncio, però se ci volete provare con me vi do il permesso. Sì ragazzi, mi sono lasciata ma già a ottobre e quindi già sono single da un po'. Quindi... sì. Non credo sia anche qui una notizia particolarmente eclatante. Io amo questa parola, eclatante. Però non lo so se volete sapere altro, poi vi rispondo anche qua. Poi... allora ci sono un sacco di... un sacco, diciamo un sacco, alcune domande sul mio percorso dei studi, che lavoro fai, vediamo, cerco di raccoglierle tutte insieme. Sì, queste qua così. Allora, vivi con i tuoi anche, per esempio, sì, vivo con i miei. Allora, il mio percorso di studi... anche qui, c'è un cerco di rientrare nel tempo. Allora, io ho fatto liceo classico, dopo di che mi iscrissi a lingue, che non ho mai finito, perché nel frattempo lavoravo, lavoravo tutta l'estate, perché facevo l'animatrice, quindi mi perdevo sia la sessione di maggio-giugno, sia la sessione di settembre. E quindi quel tempo mi sono arretrata un sacco di esami, e non ho più... cioè, non li ho più dati alla fine. Cioè, è una cosa che è venuta da sé. Cioè, non me lo sono neanche chiesta più di tanto. Poi, nel frattempo, ho fatto una marea di corsi, ho tanti di quegli attestati, potrei venderli, sul marketing, sui beni culturali, sul turismo e su cose del genere. Poi, appunto, sono arrivata a Carditello, come alcuni di voi sanno, che... che è una sorta di museo, ok? È un casino di caccia. Comunque, chiamiamolo museo, per capirci. Sono stata lì per più di due anni, e quindi ho lavorato lì. Prima sono entrata col volontariato, poi col servizio civile, poi con un lavoro vero e proprio, quindi è stato anche lì un altro percorso, ma non voglio stare lì a spiegare proprio tutti i dettagli. E adesso le visite agli appartamenti interni non si stanno facendo perché ci sono le... ci sono i restauri, o almeno questo è quello che dicono. E quindi attualmente quello che sto facendo è solo il doposcuola, il pomeriggio, e nel frattempo studio la mattina perché mi sono riscritta all'università e mi sono riscritta a lettere. Sono già... ho quasi finito anche il secondo anno e... e nulla. In questo periodo non sto neanche studiando perché ho finito la sessione e quindi... semplicemente questo. Ho un po' più di tempo per... non so su cosa ho cliccato... ho un po' più di tempo per i video, per i social, eccetera, eccetera. Diciamo che questo è in breve il mio percorso. Non mi vergogno di quello che ho fatto, probabilmente ho perso molto tempo nella mia vita sicuramente perché comunque ad agosto faccio 30 anni, ma comunque ho sempre lavorato, ho sempre fatto le mie cose, ho sempre fatto i miei corsi, corsettini, non sono mai stata proprio senza fare niente. Avrei potuto iniziare e finire l'università prima, questo sicuramente. però non mi pento di averla ricominciata adesso perché faccio comunque una cosa che mi piace e... e... io non mi pento quasi mai di quello che faccio, ma non è per presunzione. È perché sono fatta così. Penso che ogni cosa abbia il suo tempo, anche voi, se siete anche più grandi di me e vi volete iscrivere all'università, nulla che impedisce di farlo. Semplicemente. Ok. Senza stare qui a fare troppo lavate o l'agguro della vita perché sono proprio all'altezza di dare consigli sulla vita però. Poi, questo l'abbiamo detto, questo l'abbiamo detto. Allora, ci vuoi vedere i tuoi trucchi? Allora, i miei trucchi... io poi non ho detto che ringrazio anche tutte le ragazze che mi hanno fatto queste domande, nello specifico mi sono arrivate proprio tante domande dalle stesse persone. Allora, da The Moon Dream, che non so tu chi sia, però grazie. Cioè nel senso mi segui su Instagram, magari non so chi tu sia nei commenti qui. Perché voi non avete lo stesso nick su tutti i social come i miei ragazzi. Cioè è più facile trovarci così. Poi Adriana, che mi ha inviato un sacco di domande, grazie. Erika, un bacio, salutami la Spagna, olle. E poi una specie di solitudine, grazie. Allora, stavo dicendo i trucchi. Allora, il video sui trucchi mi è stato richiesto già un'altra volta, quindi sicuramente farò un video a parte. I miei trucchi praticamente sono... stanno tutti in un cassetto. E poi ci sono delle palette, delle palette. Quindi... Già lo feci forse con l'attrezzatura vecchia, però se ne volete un altro. Anche qui non credo ci sia niente di interessante, però se me lo chiedete io ve lo faccio. Hai una wishlist a tema shopping? Cosa? Io non leggo tutte le domande, aspettate. Allora, la wishlist a tema shopping, cosa vorresti comprare? Io ho wishlist ovunque. C'è la mia wishlist di Amazon, anche nell'info box qui sotto. Ho sempre borse nel carrello, ovviamente. Ho sempre la lista a decidere di AliExpress, che è lunga quanto... e anche su Shein. Più che altro, allora, su Amazon ci sono i libri. Sulla Belrosa, appunto, ci sono le borse. Su AliExpress e su Shein c'è... la roba di cancelleria. E quindi divido le cose così. Le mie wishlist sono sempre piene di cose. Poi a volte le compro, a volte le tolgo, dipende. Quando non sto nel momento di pazzia, riesco anche a trattenermi a non prendere tutto quello che vorrei prendere. Poi, ah, è una morning or night routine? Sì. Ho imparato ad averla da poco, prima non ce l'avevo, forse da qualche anno. Ma... e sto usando i prodotti, gli unici prodotti con cui mi trovo bene sono quelli della CeraVe, che sono più indicati per il mio viso, probabilmente per la mia pelle, perché molti prodotti che ho utilizzato fino ad ora mi facevano allergia, anche quelli che mi mandavano, quindi ho buttato tutto. Anche i prodotti della CeraVe me li hanno mandati, però sono gli unici con cui mi trovo bene, infatti, credo che una volta finiti questi, ricomprerò questi della CeraVe. E... semplicemente io utilizzo il detergente, la crema idratante e basta. Non utilizzo più nulla perché ho paura. Vedete tutti questi brufoli che ho? Adesso non si vedono tanto perché sono truccata, però. Ho molti brufoli dovuti sicuramente a reazioni allergiche, quindi sicuramente la prima cosa che devo fare è farmi le prove allergiche che non ho mai fatto, farmi una visita dal dermatologo anche che non ho mai fatto, e poi vedere quali proprio sono i prodotti più adatti alla mia pelle perché io di questi brufoli che escono non ne posso più. Sono piena. E proprio mi creano... I brufoli mi creano un disagio assurdo, cioè... Veramente, non mi vergogno di quasi niente nella vita, ma i brufoli mi creano veramente disagio, cioè... Li odio, li odio, li odio. Ecco qua, va bene, infatti. E poi magari... Forse faccio anche qualche roleplay. Voglio fare un roleplay in realtà con la skin care su... Con la testina. Che ho una testina che non ho mai utilizzato. Allora, tre influencer preferiti e tre che odi. Allora, io non seguo gli influencer. Nel senso... Sono io l'influencer. Non è vero. Nel senso che io non li seguo. Cioè, per me non mi attirano. Non sono persone alle quali mi ispiro. Cioè, non... Non mi trasmettono... Sai, io non li seguo. Io non seguo neanche i VIP su Instagram, sui social, niente. Io seguo le persone normali che mettono foto che mi piacciono, contenuti che mi piacciono, ma che non sono influencer. O che comunque sono come me. Cioè, ragazze che magari ogni tanto sponsorizzano qualche prodotto, così. E poi io non odio nessuno. Cioè, non è che io odio gli influencer. Ci manca i VIP. Non odio nessuno. E a prescindere. In generale. E quindi non ho né i tre influencer preferiti, né i tre influencer che odi. Non mi piace, per esempio, Chiara Ferragni. Io ho tutto questo hype su Chiara Ferragni. Non lo capisco. Cioè, per me non... Pure lei, Fedez, tutta la sua famiglia. Non mi piace neanche Fedez. Quindi... Non sono attirata da queste persone. Neanche dai figli. Il figlio che sta simpatico a tutti. A me non mi dice niente. Ma vabbè. Questo è un problema mio. Non segue neanche modelle curvi, in realtà. Perché le trovo un po' finte, anche quelle. Cioè, le modelle curvi che ci sono sui social... Non sono modelle curvi. Cioè, non dà una panza. Cioè, ma se non tiene una panza, non si chiatta. Per essere chiatti bisogna avere la panza. Invece quelle praticamente sono solo alte, con i fianchi un po' più larghi. E poi non hanno la pancia. Ma come fa da non avere la pancia? Quindi per me sono fin... Cioè, è tutto finito. Quindi non mi piace. Non mi piace. Vabbè. Poi, poi... Ci sono delle domande sui libri? Ok. Intanto devo vedere se... Se entra qualcuno. Ma io sto pur già quasi finendo il tempo. Allora. I tuoi libri preferiti è perché? Quale autore del passato vorresti essere? Il tuo libro preferito. Vabbè, quindi queste. Allora. I miei libri preferiti vanno un po' a seconda del momento. Cioè, di quello che sto leggendo. Nel periodo della mia vita. Ho ripreso a leggere ultimamente. Perché, appunto, non sto studiando. Non riesco a fare tutte le due cose insieme. E ho ripreso la serie di Ricciardi. Che, vabbè, lo sapete. Ve ne ho parlato tante volte. Anche la serie con l'inaguanciale. E quindi, in questo momento, sto leggendo il post di ognuno. È sicuramente uno dei miei libri preferiti. Cioè, proprio una delle mie serie preferite. Di cui, tra l'altro, di questo libro hanno fatto anche l'episodio. Mi piacciono i libri della Ferrante. Quindi tutta la serie dell'Amica Geniale. Sono tra i miei libri preferiti. Compresa la serie televisiva. Quindi questi sono i miei libri preferiti del momento. Quale autore vorrei essere del passato? Mi piacerebbe essere sicuramente qualche autore di fine ottocento. Quindi qualche autore del romanticismo. Victor Hugo, forse sì, mi piacerebbe. Ma vorrei essere qualche autrice donna. Però le autrici donne si mettevano allo pseudonimo. Quindi, non lo so. Mi piacerebbe essere comunque Victor Hugo. Nell'epoca in cui ho vissuto. E' fantastica in Francia. Poi. La figuraccia più divertente che ho fatto. Ma sapete che io faccio talmente tante figure di merda tutti i giorni. Che è la più divertente. Non lo saprei. Mi viene in mente tutte le volte in cui saluto le persone per strada. Perché credo di conoscerle. Cioè, credo che somiglino a qualcuno che conosco. Poi si avvicinano. Non sono loro. Cioè, non sono chi credevo che fossero. E quelle sono figure che faccio quasi sempre. Sempre. Perché? Perché poi a volte mi capita che le persone le vedo per strada. Siccome io non vedo da lontano. Soprattutto le persone quando stanno in macchina. Che hanno il riflesso, no? Della luce. Non le vedo. E fanno, ma non mi hai salutato. Ma non è che non ti ho salutato. E non ti vedo. Non ti vedo. E quindi... Ecco, perdonatemi. Queste sono le figure che faccio tutti i giorni. Poi, faccio l'ultima domanda. Perché, a parte che sono finite, ma poi perché è quasi finito il tempo. E altre domande. Poi magari facciamo un altro video, se ce le avete. Pensami sin da subito che fare i video sarebbe stato un impegno serio. Allora, io ancora oggi non lo prendo come un impegno serio. Nel senso che, come vedete, io faccio i video quando posso e soprattutto quando voglio. Cioè, nel senso che ci sono ragazze che, siccome devono girare i video, perché devono creare contenuti. Perché se non crea i contenuti poi fondamentalmente non guadagni. Lo vedono appunto proprio come un lavoro. E quindi magari anche la sera, se sono... Stanno schia... Stanno... È suonato il citofono, ma non vado. Perché se no non posso finire il video. Quindi anche se ci sono persone che magari... Stanno morendo di sonno. Fanno... Fanno i video. Io no. Quindi... Cioè, io li faccio veramente quando voglio, quando ho tempo. Soprattutto quando voglio. Perché non lo prendo come un impegno serio. È un impegno che ogni tanto so che devo creare contenuti, ma... Non lo prendo veramente proprio così seriamente. Pure le foto su Instagram so che devo mettere le foto. A volte mi scoccio. Io mi scoccio di fare tutto. Quindi non sono per niente... Una portatrice di contenuti in internet seria. È affidabile. E niente, ragazzi, io vi saluto. Devo tagliare pure il suono del citofono adesso. E... Niente, vi... Ci vediamo al prossimo video. E... Altre domande? Inviatemele sempre su Instagram. Perché io le raccolgo tutte insieme. Appunto. E poi vi rispondo. E... Niente. Un bacio. Ciao.